Hehehe, sono Pazzox e ben ritrovati in questo nuovo video improvviso! Dico improvviso perché oggi sarebbe dovuto uscire un altro video, ma mi sono ritrovato quel solito pallino nell'armadietto! Non ho ricevuto nessun avviso da parte di Epic, ma a quanto pare ho ricevuto qualcosa! E vi ricordo che ci sono anche i Disney Villains all'interno dello shop di Fortnite, che vedremo anche insieme perché ancora non li ho visti! E se vi va, potete supportarmi con il codice Pazzox, noxozap, come nella maglia perché sono al contrario! Ma Pazzox, non importa se è scritto in grande o in piccolo! Personaggio, allora, recenti e... Ah, 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 sgama... E Spider-Woman! Avevano detto che stava arrivando Spider-Woman, ma non me l'aspettavo nel mio armadietto! Prima di vedere tutto il suo set e di provarla, io ringrazio Epic Games per questa skin in anteprima! Allora, questa è la Spider-Woman classica, che da piccolo non mi è mai sembrata una Spider-Woman perché non aveva gli stessi colori di Spider-Man! Quindi per me sembrava un'altra supereroina! Agente Shield, eroina in affetto, detective privato, Jessica Drew, si affare ogni cosa! Ha degli stili, tela sì e tela no! Ah, beh, ci sta, ci sta, però preferisco con la tela, sono sincero! A me piace Spider-Man con le ragnatele sotto le ascelle! Poi abbiamo un dorso decorativo, che è... Ah, questo qui è le ragnatela velenosa! Abbiamo un piccone, eh, valla a trovare tra tutti questi picconi recenti... Oh, il piccone sembra carino! Il piccone è molto interessante, molto molto carino! L'avrei preferito a doppio, ma va bene anche così! Roti a piccone, vai! Ok, c'è anche la copertura... Ecco la copertura! Oh, oh, finalmente una copertura come si deve! Va che bella che è, con questa animazione! A differenza di quella di Shaquille O'Neal, questa è tanta roba! E poi degli strumenti! Ah, una pianola? Una pianola! Ah! Ah, che carina! Oh, finalmente una tastiera come si deve! Che questa qui poi è anche carina, eh! Però questa è più sul rosso! Sembra anche uno stile Iron Man! Ma gli mettiamo le ragnatele di Spider-Man! Perché ci stanno benissimo! Quelle di Gwen! Mmm! Quelle di Spider-Man! Quelle di Spider-Man! E quanti V-Buck costa questa Spider-Woman? Eh, non lo so! Mi sono informato! Il costume costa 1.500 V-Buck! Con stile Lego incluso! Carina! Lo zaino, ovviamente, è incluso con la skin! Il piccone 800 V-Buck! La copertura 500 V-Buck! E infine lo strumento, la tastiera, 1.000 V-Buck! Per un totale di un pacchetto di 2.500 V-Buck! E la skin arriverà il 20-21 ottobre! Io direi mettiamo tutte le mot a tema Spider-Man! Perché ci stanno benissimo con lei! E andiamo a sfoggiare questa skin in reload! Ed eccoci qua! Posso dirvi che è veramente fatta bene! Per quanto io non sia un fan di Spider-Woman! Sembra veramente fatta bene! Ah, Snake! Che fai? Col mantello! Spider-Woman! Avete capito? È vero che c'ho le ragnatiele sotto le scelte? Spider-Gwen! Siamo amiche noi adesso! Ha capito? Niente, non mi calcola! Vediamo con il deltaplano di Spider-Man come ci sta! Eh, bene, bene, bene! A me da piccolo piaceva tantissimo... Lo Spider-Man oltre a quello Scarlet! Lo Spider-Man con il costume nero che sembrava Miles Morales ma aveva un mantellino tutto trasparente! Non ricordo come si chiama! È vero che ci sono le armi del viceverso, me ne dimentico! Lo Spider-Woman! Ok, tutto bene! Pensando a Fortnite, lei sembra rimedio ma con un costume! Ah, il piccone comunque è carino! Con questa scia tutta verde! Delle combo belle si possono fare! Ma vedi che la copertura si anima anche senza sparare bella! Io tutto calmo mentre si massacrano due botte qua vicino! Chi è qua sotto? Ehi, signora! Fatemi partecipare! Sono Spider-Woman io! Dove vai? No! Ti sento manco un colpo! Prova! Ma quanta gente! Mamma mia! L'arrampicata mi ha salvato! Ah! Dai! Viceverso! Cosa ho detto? Va bene! Va benissimo! L'importante è che la squadra non ci sia più! Fatemi provare queste motte! Ahah! Se non ricordo male, lei plana anche grazie alle ragnatele sotto le ascelle, no? O sbaglio? A questo punto, Epic, puoi darmi anche Shivenome Egoni, eh! Lo accetto volentieri! Vi piacerebbe un video su Shivenom? Se sì, scrivetemelo qua sotto! Che io volentieri lo faccio! O magari la Venom Challenge con tutti i Venom! Venom classico! Carnage e il Venom di Eddie Brock! Quello ce l'ho! Mentre la skin di Spider-Woman io gli do un bel sette e mezzo! E non è per le chiappe! Non siate maliziosi! Questa partita è fin troppo tranquilla! Uh, eccone uno! T'ho preso! E dai, proprio gli alberi! Ma perché gli alberi non sono i miei amici! Ahah! Sono proprio come Spider-Man! Il mio senso di ragno! Dice che c'è pericolo a Pinnacoli! Sto entrando troppo nel personaggio, forse! No, Shuri! Non lo so! Sì, è Shuri! Non chiamare il tuo amico, eh? Ha chiamato il suo amico! Prende questo! Sono Spider-Woman! Hai capito? Mi sa che hai capito! Apri, 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 apri! Apri! Aspetta! Non l'ho preso, perché? Ora ti prendo! Oh! Presa! Dai, non l'ho preso! Come ho fatto a non prenderlo? Oh! Finalmente! Oh! 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 Ancora! Ma basta! Quanta gente c'è! Skin livello 50! Vai via! Oh! Siamo già in quattro? Ah! Il mio senso di ragno! Li vedo! Qua come... Ah! Cretino! Non l'ho preso! Come ho fatto a non prenderlo? Sono una pippa! Sto arrivando! Oh! Come ci sta bene queste motti con lei! Per i colori! Gambo! Oh! Mamma mia! Sono Spider Woman! Oh no! Sono contro due! Mi piacerebbe avere la moto... Oh! Ce n'è uno lì! Sono tutti e due lì! Andatevi sopra la torre! Andatevi sopra la torre! Signora! Mamma mia! Uh! Bello questo! Il compagno dov'è? Ah! Giusto si possono rianimare i mini menti con che ci sono i ravi ancora attivi! Mamma mia! No! Il compagno! E che cacchio! Pure la tempesta ci si mette! Schifo come Spider Woman! Oh! Schifato per... Mamma mia! Sto schifando per davvero! Che culo! Aia! Ma non ce la vedi più i ravi! Cari amici miei! Niente più da vedi! Sono Spider Woman! Bravo! Valla a curare! Curalo! Cura il tuo compagno! Bravo! Cura il tuo compagno! Cannaggia! Volevo fare... Il trollone! Sono nel cespuglio! Sono nel cespuglio! Ti ho visto la testa! E ti ho preso la testa anche! Spider Woman al momento! Spider Woman al momento! Spider Woman al momento! Mamma mia! Non vedo! Non vedo con le foglie davanti! Fortnite! Ma quello! Ok! Ma era lì! Guardatelo il cretino! Che stavo facendo laggiù? Spider Woman! Va bene! Grazie mille! Beh allora! La skin è molto molto carina! Date un voto voi qua sotto nei commenti! Ma adesso fatemi vedere un attimo Sti cacchio di tizi della Disney Come sono fatti! Allora Capitanoncino E' arrabbiatissimo! Con il tatuaggio mamma! Ok! Poi abbiamo Malefica! Lei è carina! Lei è la più bella del set mi sa! E poi abbiamo Crudelia Demon! Maledetta! Lascia stare quei dalma! T'hai capito? Lasciali stare! Carino questo corvo! Sulla palla! Ma c'è il coccodrillo! Quindi ci vediamo! Che è successo lì all'immagine? Si è rotto forte! Devo andare via! Vado via! Vado via! Beccati e rapazzoidi! Spero che vi siate divertiti! E noi ovviamente ci vediamo con un dolcissimo e carinissimo! He he! Comunicazione di nome pazzo! Gioca Fortnite con fiamme negli occhi! Le zampe veloci! Pronto a combattere con la carica del rock! Si fa strada per vincere!